Ben tornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV, non c'è il nostro Beppe Marconi quest'oggi che è andato al mare E' venuto Fabio E' venuto Fabio, io vengo sempre, lui che a volte non viene A Beppe Marconi, mi sembra di conoscere Quello che ha fatto il vice sindaco, che è sempre con me tutte le sere, è andato al mare, però insomma noi siamo, beato lui Allora ci ha chiamato il signor Domenico No, noi siamo Domenico Domenico, si si, ho detto Domenico Perché sono SOR, perché sono SOR da tutte e due l'orete No, abbiamo detto Domenico Il nostro telespettatore che ci ha sottoposto il problema di, diciamo, l'accesso alla Casa della Salute Guadagnoli per i disabili, che succede qua? Ma succede questo, prima di tutto non si può entrare perché c'è una porta con una molla fortissima per cui non si può tirare Si tira, con la carrozzina si tira la porta però non si entra perché c'è un falso scalino e la carrozzina è in punta e non si può entrare Di spalle, se io lascio la porta, la porta è forte, si richiude e di spalle non posso entrare perché le rotine davanti della carrozzina non sono trazionate, sono trazionate quelle che sono dove appoggio il sedere E quindi c'è un bel problema? No, è un problema che lo devono risolvere o in un modo o nell'altro perché se un ente pubblico e poi della salute come la USL cade su queste sciocchezze penso che sia piuttosto meschino insomma Quindi le cose da fare sarebbero togliere il vaso e lo scalino sarebbe da togliere? Ma anche quello scalino lì, se io ci vado, là col marciapiede hanno fatto pari con l'asfalto, di qua ci hanno fatto uno scalino ripido Io vi faccio vedere come si fa a entrare e mi tocca entrare di spalle Vediamo il signor Domenico come entra, come tenta di entrare proprio a retromarcia praticamente Bisogna entrare a retromarcia perché se no, se no non si sale Ora, questo è il problema, io vado in retromarcia, la porta è aperta, però dove vado a sbattere? C'è la cosa, domandatemi voi altri come faccio, se c'è quello lì che impiccia Di punta non posso entrare perché impuntano le ruote in e davanti E allora che faccio? Aspetto i pompieri perché mi facciano entrare Oppure qualche anima buona, ma insomma qualche volta Al San Donato c'è quelle porte scorrevoli Per cui uno entra e esce come abbastanza regolare Allora facciamo un appello, sai che c'è la nuova ASL, quella vasta Ma penso che sia una vera e bella fregatura Quando mettono vasto Ma vasto è vicino a Chieti Che è un po' lontano Sì, ecco proprio per dire perché è un po' lontano Quando mettono le cose vaste va a finire Comunque facciamo un appello A me mi piace che questa cosa venga a conoscenza di tutti Perché se non tutti sanno, anche se sanno tutti Ma non viene divulgata, nessuno sa niente Poi ci diceva che c'è questo problema, qui c'è un parcheggio per le ambulanze Però le ambulanze non ci sono mai, occupano i posti fuori, giusto? Siccome il cancello automatico col telecomando Ho visto che quelle strisce blu sono riservate Perfettamente d'accordo Però se quella è riservata alle ambulanze Che senso hanno le ambulanze di parcheggiare fuori? Perché devono parcheggiare su posti invalidi? Quando c'hanno qua quattro posti per parcheggiare E dopo l'invalido non trova il posto? E l'invalido non Già che ce le mettono in difesa No, i soliti furbi Io spesso volentieri faccio le foto E poi le porto a Facebook Con la targa ogni cosa Perché non me ne importano proprio un tubo Perché alla mia età ormai Non so più paura quasi Basi di niente De morire è batta È giusto, è giusto farlo sapere E allora, noi ci ritroveremo anche domani Per parlare in generale dei problemi dei disabili ad Arezzo E della poca sensibilità che c'è Pochissima sensibilità Ne parliamo domani A domani